Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise per il campionato di Serie D si è giocata l'ottava d'andata. Castelfidardo Campobasso 2 a 2, Fabriano Cerreto Avezzano 0 a 2, Francavilla L'Aquila 3 a 2, Monticelli Pineto 2 a 2, Nero Stellati San Marino 0 a 1, L'Impegno Nese Re Canatese 1 a 0, San Nicolò Iesina 1 a 2, San Giustese Matelica 1 a 3, Pesaro Vastese 2 a 4. Per una classifica che vede in testa il Matelica a quota 19, Campobasso 18, Castelfidardo 17, Pesaro 16 insieme alla Vastese, San Marino 14 a 12, Francavilla, Avezzano L'Aquila e Iesina, San Giustese 11, 9 punti per il Pineto, San Nicolò Olimpegno Nese 7 a 6, Fabriano Cerreto e Re Canatese, 4 Monticelli, ultimo Nero Stellati a quota 2. E' terminata con un pareggio la sfida ad alta quota tra Castelfidardo e Campobasso. A Castelfidardo per il Campobasso è il secondo pareggio consecutivo, figlio di una buona prova complessiva con le unghie sfoderate nel finale per evitare quella che sarebbe stata un'ingiusta sconfitta. Lupi seguiti da circa 150 tifosi con un pullman al seguito. Bella la cornice di pubblico, circa mille gli spettatori presenti, accade poco in un primo tempo in cui Gurma già al quarto non spaventa più di tanto il castello. Foglia Manzillo schiera a Gerardi per un leone non al top, anche se quest'ultimo si rivelerà il salvatore della patria per gli ospiti che al 31esimo scappano in contropiede con D'Agostino. E' l'ex Grazioso a combinarla grossa facendo fallo e procurando una punizione tirata dallo stesso D'Agostino e sporcata proprio dal molisano Grazioso. Selvaggio e battuto, Campobasso avanti in un primo tempo tutto sommato, privo di occasioni. Il rosso-blu vorrebbero già chiudere i conti con Gurma al 37esimo. L'albanese lanciato a rete è fermato in maniera discutibile da bordi. Il pistoiese signor Fiero fa continuare. Il castello non calcia mai verso Landi, compreso al 43esimo, quando la punizione di Grazioso non è raccolta da nessuno. I cambi della metamorfosi li fa Vagnoni nell'intervallo fuori un impalpabile Mialov dentro Trillini. In campo anche Ghiani al posto di Bordi, tutto dal primo della ripresa. Il Campobasso fa correre un rischio ai fisarmonicisti all'ottavo con un sinistro al lato di Poco di D'Agostino. Pericolo scampato, così i locali possono suonare due sinfonie ai Campobassani. La prima al dodicesimo, tutto origina da un cross basso di Trillini deviato in angolo da Capozzi. Batte Pigini, palla contro la schiena di Capozzi al volo Lispi. Il pareggio nonostante Landi l'avesse quasi presa. Il portiere rosso-blu è bucato di nuovo dopo ben 372 minuti di imbattibilità. Il Castello è entusiasta, il lupo un po' frastornato, così al sedicesimo il traversone di Massi viene interrotto dal braccio di Capozzi, involontario ma falloso. Rigore e giallo evitato al difensore rosso-blu. Dal dischetto Minella è perfetto, 2-1 per il Castelfidardo. Situazione anomala, ma il Campobasso aveva subito due reti in una partita. Subito dopo in campo, Leone al posto di Gerardi, un cambio già programmato. Il Campobasso ha il merito di non perdere la bussola, a parte la fase buona per gli ospiti, aperta al 28esimo. Dal destro di poco alto di Salim Ribeiro, Foglia Manzillo rinuncia a Danucci e Vecchione per inserire Ingretolli e Sorrentino. Rosso-blu in campo con quattro attaccanti, clamoroso al 32esimo, traversone di D'Agostino. Dal fondo la rimette Sorrentino, rimpallo su Giovagnoli, inzuccata di Gurma, istinto incredibile di Selvaggio che anticipa a seguire anche lo stesso Ingretolli. La tensione sale, il lupo c'è, ma il parziale piange. Al 36esimo, da Leone a Ingretolli, impacciato al momento di controllare la sfera. Nel castello si fa male l'ispi, entra Di Natale al 40esimo, angolo di D'Agostino, testa di Minella, ancora braccio di Capozzi che toglie la sfera. Al solitario, la Niena che si arrabbia moltissimo. Stavolta c'è tutto il giallo al difensore ospite. Il campo basso prova a fare in fretta al 42esimo, la Niena si esalta nei dribbling prima di calciare. A lato con il Mancino, comandati cinque minuti di recupero. Foglia Manzillo si gioca ad altri due cambi repentini. In campo spediti Spinelli e Bisceglia, entrambi al debutto, al posto di Bolzan ed Elefante. Cinque le sostituzioni ospiti. Il campo basso sprizza di rabbia. Al 91esimo, Leone è innescato dal solito D'Agostino. Solo una deviazione di Di Natale lascia che la sfera carezzi l'incrocio dei pali. Ne scaturisce un angolo battuto da D'Agostino. Salta prima a Gurma, poi Bisceglia insieme a Giovagnoli. Prima del destro, preciso e vincente di Leone che poi corre verso i tifosi e sembra dire loro. Et voilà, ecco il 2-2. Premiata la voglia del carattere di un campo basso che si prende un punto d'oro e rimane nel gruppone delle prime. Da una collina, quella di Castelfidardo, all'altra, quella di Recanati, di Rimpettaia, dei Fisarmonicisti, al Campobasso, domenica prossima, toccherà l'Ermocolle Recanatese per provare a ritornare ai tre punti o, se preferite, al D di Festa. Debutto con i tre punti per Pino Di Meolo. L'Olimpia agnonese ha superato di misura la Recanatese. L'Olimpia agnonese comincia la risalita in classifica dopo il risultato di 1-0 ottenuto con la Recanatese. I tre punti mancavano da troppo tempo in casa Granata. Ottimo il primo tempo, disputato al Civitelle dai ragazzi di Mister Di Meo, che ha debuttato proprio oggi sulla panchina alto molisana. Un ritorno a due anni dalla storica salvezza ottenuta agli sgoccioli del campionato. Debutto oggi anche per Mister Alessandrini con i giallorossi, che oggi hanno giocato con troppo timore e per questo sono stati penalizzati. Ma andiamo alla cronaca del match. Primo squillo arriva al quinto minuto di gioco. C'è Margarita per Santoro in ottima posizione, ma il tiro è debole e il numero uno, Marchigiano, intercetta con facilità. All'ottavo ancora Margarita per Santoro, ma stavolta Maraglino si tuffa per salvare la situazione. Al dodicesimo la svolta, protagonista è ancora Margarita e il suo, il calcio d'angolo che fra botta, riceve e di testa infila nella rete giallorossa ed è 1-0 per l'Agnone. L'area canatese tenta di rispondere al ventiduesimo, la buona occasione su calcio piazzato dal limite dell'area, che Negro però manda alto. Un minuto dopo è brivido con un tiro al volo di Senigallesi che si stampa sulla traversa. Con le immagini di Danilo Scarinci siamo alla ripresa, decisamente più noiosa del primo tempo. Al dodicesimo sbaglia tutto Santoro servito da Di Lollo, solo davanti al portiere non inquadra lo specchio della porta. Al diciottesimo fra botta cerca la doppietta con un tiro dal limite, ma Maraglino compie un vero miracolo. Un minuto dopo ci riprova su calcio d'angolo battuto da Santoro, ma manda fuori. L'ultimo tentativo lo compie Ferraro al 43esimo, ma manda alto. Sul finire del match al 43esimo c'è l'espulsione di Barbosa, che rifila una gomitata a cipolletta. Gli ultimi sette minuti quindi l'Agnone prosegue con dieci uomini, ma non basta la re canatese per poterne approfittare. Finisce così dunque tra alti e bassi, un gioco non molto bello, ma concreto. Tanto basta per ora l'Agnone per recuperare quel giusto spirito che li faccia uscire dai bassi fondi della classifica e per recuperare un po' di morale. Anche per la re canatese il lavoro da fare è ancora tanto. Atletica verrà presentata sabato prossimo, la 44esima edizione della Sue Giù, la gara podistica amatoriale organizzata dal gruppo sportivo Virtus. Sabato presso l'ExGIL, si svolgerà anche la cerimonia di premiazione per atleti e gente di sport che si è distinta nell'anno agonistico 2017. Basket, vediamo i risultati della Serie A2 femminile, bimaschile e Cisilver. Quarta giornata nel girone sud della Serie A2 femminile. Alghero, Orvieto 69 a 46, Bologna, Progresso, Campobasso, La Molisana 74 a 40, Cagliari, Civitanova, Marche 61 a 57, Spezzino, Forlì 80 a 53, Palermo, Empoli 83 a 84, Valdarno, Roma, San Raffaele 72 a 71, Umberti, De Faenza 66 a 69, ha riposato il Savona per una classifica che vedono in testa Bologna e Valdarno entrambi a quota 8, seguono a 6 Empoli e Palermo per quanto riguarda la Molisana basket e dietro a quota 4. Girone D della Serie B maschile, quarta giornata, Barcellona, Basket, Scauri 93 a 71, Dynamic, Venafro, Cagliari 75 a 78, Palestrina, Virtus, Valmontone 100 a 72, Catanzaro, il Globo, Iserni 87 a 53, si devono ancora giocare Sport e Cultura, Patti contro Luis Roma e Stella Azzurra, Roma, Tiber, Basket, Roma. Si sono giocate invece, Cassino, Sant'Angelo 79 a 73, si deve giocare anche Capodorlando, Battipaiese. Questa è la classifica, 8 per il Barcellona, 6 Luis Roma insieme a Palestrina e Scauri, per quanto riguarda le Molisane, c'è la Dynamic Venafro e il Globo Iserni, entrambi a quota 0. Girone A della C Silver, anche qui quarta giornata, si deve ancora giocare a Rino Basket, Termoli, Nuovo Pineto, Magic Basket Chieti, Basketball, Teramo 86 a 72, Nuovo Campli, Vasto 68 ad 82, Nuovo Basket Aquilano, Teramo a spicchi 55 a 79, Olimpia Mosciano, Pescara 75 a 59, Silvi, Torre dei Passeri 71 a 57. 8 punti per il Magic Basket Chieti, 6 Vasto, Teramo a spicchi, 4 punti per il Pineto, il Mosciano, il Silvi, l'Aquilano e il Torre dei Passeri, 2 punti, troviamo le Rino Basket Termoli, insieme a Campli, Teramo a 0, chiude il Pescara. Bocce, sono aperte le iscrizioni per la quindicesima edizione del Memorial, commentator Quintino, Pallante, gara a carattere regionale, specialità individuale, organizzata dalla Bocciofila Frosolonese, in programma domenica prossima, Calcio a 5, Serie B. Terza giornata, nel girone F della cadetteria, Chaminad, Fuzzal Altamura, 5 a 5, Fuzzal Canosa, Tombesi, 4 a 7, Ruvo Cassano, 2 a 9, Giovinazzo, Cusmolise, 4 a 3, Real Dem, Capurso, 4 a 1, Sagittario Prato, la Manfredonia, 5 a 4. 9 punti, Tombesi, 7 Cassano, 6 Manfredonia, 4 Canosa, Giovinazzo, Chaminad, Fuzzal Altamura, 3 punti per il CLN, Cusmolise, Sagittario Prato, la Real Dem, Fuzzal Rubo, chiude a quota 1, il Capurso. Sconfitta esterna per il CLN, Cusmolise, a Giovinazzo. Il CLN, Cusmolise, è tornato da Giovinazzo con una sconfitta, 4 a 3 il finale in favore dei padroni di casa. Buono l'approccio al match della squadra di Sanginario, Massone e Biancoverdi a passare in vantaggio. De Palma sfrutta l'assist dalla destra di Rafinha, e in scivolata batte da Lauro. Il Giovinazzo tiene alto il ritmo e le due squadre vanno così a riposo sull'1-0. Nel secondo tempo il CLN, Cusmolise, viene fuori e Nardonillo con una percussione di forza, prende palla dalla sua aria, passa in mezzo a due avversari e batte di capo a 1-1. La gioia del gol dura poco per i molisani perché Rafinha, con uno schema su calcio di punizione, batte da Lauro per il momentaneo 2-1. Il 2-2 scaturisce da un bel recupero di Barrichello nella metà campo del Giovinazzo con il giocatore brasiliano che solo davanti al portiere lo supera. Il Giovinazzo trova prima un nuovo vantaggio con Cutrignelli, poi il poker porta la firma di Piscitelli. Scatto d'orgoglio per il CLN, Cusmolise, gran gol di Barrichello. Il brasiliano riceve palla e dalla tre quarti campo in un fazzoletto trova lo spazio e l'angolino giusto. Di capo è ancora battuto. Match riaperto a questo punto, mister Sanginario opta per il portiere di movimento, ma il CLN Cusmolise non riesce nella grande rimonta. Il Giovinazzo vince 4-3. Sabato al Pala Unimol serve il riscatto nel match interno contro il Sagittario Pratola. Pareggio Beffardo a 30 secondi dal triplice fischio per la Chaminade contro l'Altamura. Simone Petrella 5-5 che vi lascia un grosso rammarico in bocca perché la squadra avversaria, l'Altamura, vi ha raggiunto praticamente a 29 secondi dalla fine, però è giusto. Ma giusto? Non direi anche perché un albitraggio, non bisogna parlare di albitraggio, ma sicuramente ci ha penalizzato. Dal mio punto di vista abbiamo fatto una grande partita. Tuttavia, siamo una squadra che quando spesso va ha questi episodi a sfavore. vuoi l'ambiente che come al solito bisogna ringraziare sempre si è infuocato. Non siamo riusciti a portare a casa il risultato, ma penso che meritavamo qualcosa in più. Siete però mancati nella gestione dei vantaggi che sono stati anche i cospicui. 4-1 alla fine del primo tempo e ad un certo punto della ripresa eravate sul 5-3. Probabilmente in alcuni frangenti la tensione è calata. Ma sì, questo sicuramente anche perché penso che siamo stati molto sfortunati negli episodi con il sud deviazione un altro che sotto le gambe ma ci hanno tagliato le gambe. Sicuramente non è da accogliere come un risultato negativo ovviamente però c'era il pregiudizio portato dalle due espulsioni che evidentemente comporteranno appunto due assenze importanti a Cassano. Sì, sicuramente abbiamo due assenze importanti come quelle di Pablo e Michele ma penso che se giochiamo come il primo tempo nulla è impossibile in trasferta. Adesso i tornei regionali di C1 e C2. Terza giornata nel torneo di C1 Arcadia Termoli a Esernia 1-3 Fuzza al Montenero Camarin 6-3 Real Venafro Fossaltese 6-4 Roburagnone Real Cerce Maggiore 12-5 Saracena Mirabello 5-1 Castel Pagano Virtus Estese 3-6 9 punti per Saracena Virtus Estese seguono a 6 Roburagnone e Montenero insieme all'Esernia Fuzzal 4 Arcadia Termoli 3 punti per Castel Pagano Camarin Real Venafro e Mirabello 1 Fossaltese Chiude a quota 0 Cerce Maggiore C2 Questi risultati la seconda giornata Castel del Giudice Riccia 11-3 Rocca Ravindola Montes 5-6 Fuzzal Colli a Volturno Montagano Petrella 1-2 Montorio Nefrentani Frosolone 2-2 Pietra Fuzzal Cassiopea 6-0 Vinchiaturo Sestese 4-7 In testa la classifica a quota 6 Castel del Giudice Montagano Petrella 4 punti per Montorio Nefrentani Frosolone 3 Pietra Fuzzal Sestese Fuzzal Colli al Volturno Riccia Montes Chiudono a 0 Faiver Rocca Ravindola Vinchiaturo Cassiopea Oggi sul campo della Polisportiva Fortore in programma uno stage per portieri l'evento è organizzato dall'associazione Un Tuffo nel divertimento e dalla stessa Polisportiva a supervisionare i ragazzi osservatori del San Marco in Lamis del Melfi e della Polisportiva Fortore le iscrizioni scadono oggi e lo stage avrà inizio alle 16 a 30 adesso il torneo d'eccellenza Campo di Pietra Campo Basso 1919 1 a 0 Treppini Matese Isernia 0 a 2 Venafro Riccia 6 a 3 Boiano Sesto Campano 1 a 1 Frentania Vasto Girardi 0 a 3 Guionesi Alife 3 a 0 Spinete Termoli 1 a 6 Sospesa Pernebbia Vulcania Gambatesa In testa c'è sempre l'Iternia a ponteggio pieno a quota 21 17 Vasto Girardi Termoli 16 Venafro 15 con il Guionesi a 10 Gambatese Campo di Pietra 9 punti per il Treppini Matese Spinete 8 Alife 7 6 punti Vulcania Riccia Frentania e Boiano 4 Sesto Campano ancora fermo a 0 il Campo Basso 1919 Successo esterno e convincente del Vasto Girardi contro la Frentania Si interrompe in casa il cammino la marcia positiva per quanto riguarda la Frentania che dopo due vittorie consecutive cede le armi e rimette le ali al Vasto Girardi che si impone al Comunale per 3 a 0 una partita importante per gli altomolisani che ritrovano confidenza con la vittoria ma non fanno nel migliore dei modi in una gara dove sono parsi concentratissimi vogliosi soprattutto di sbloccare il confronto sbloccato al 23esimo di Lullo in becca Petrone sulla fascia sinistra entra in area converge mette in mezzo isolato praticamente Sisti che viene lasciato da solo va a correggere in rete il gol del vantaggio quello che sblocca la partita al minuto numero 23 passano 5 minuti 28esimo costruisce ancora Michael Sisti sulla corsia di destra riesce a guadagnare il fondo mettere in mezzo il pallone la finta di Petrone arriva Calcagni che si deve solo girare un rigore in movimento il calcio di Calcagni che scarica sotto l'incrocio dei pali e va a raccogliere l'abbraccio dei propri compagni da qui in poi salirà moltissimo e tantissimo la frentania qui si gira Cacchione grande Maggi che riesce a deviare con un colpo di reno in calcio d'angolo nel finale del tempo riesce a ritrovare la verve giusta il vasto Girardi con questa conclusione con il sinistro di Calcagni che non impensierisce più di tanto Cercio con la palla abbondantemente alta sulla traversa con le immagini montate Alessandro Nardella troviamo una frentania diversa in campo nella ripresa una frentania che riesce a trovare subito occasioni importanti qui il rinvio maldestro di Maggi con Tarantino che gli si presenta tu per tu però il portiere recupera subito andando a neutralizzare l'occasione d'oro che si era creata per Tarantino al quinto diciassettesimo ancora Maggi protagonista la punizione di Pagano la ribattuta due volte di Tarantino prima su Pagano e poi dell'estremo Maggi ancora su Tarantino Rendina ci prova su punizione ventisettesimo pallone che arriva lungo in area di rigore la girata di Troiano Maggi da campione con la mano sinistra a deviare la sfera in calcio d'angolo solo Frentania nella ripresa Rendina ripropone in mezzo un buon pallone per Pagano che riesce a pescare in profondità Mancino va a segnare Mancino però viene sbandierato il fuorigioco protestano i giocatori della Frentania Frentania in avanti fino all'ultimo qui Tarantino il suo diagonale Maggi però c'è si accartoccia guanta la sfera nell'unica azione offensiva della ripresa il vasto Giardi trova il tris pallone in profondità persisti controllo volante e l'attaccante che tra l'altro è nato a Larino si gira e scarica sotto l'incrocio dei pari una punizione troppo severa sicuramente per la Frentania che subisce il terzo gol i pugliesi mettono la testa giù cercano ancora di attaccare e qui Maggi ancora da campione su Pagano gli va a negare la gioia del gol Pagano ancora lui cerca poi nel finale proprio in pieno recupero sull'imbeccata di la torre è proprio lui a girare ma è un campione Maggi alza la sala cinesca e dice di no all'ennesimo tentativo di Pagano vince il vasto Girardi che porta a casa un risultato di prestigio 3 a 0 sul campo della Frentania al Colalillo Boiano Sesto Campano è terminata con un pareggio un punto a testa meno di un brodino nel piatto che piange della classifica di Boiano e Sesto Campano all'inizio nessuna delle due squadre vuole scoprirsi e per vedere la prima occasione bisogna attendere il ventiduesimo quando Corotas svetta sulla punizione di Cecchini e sfiora il bersaglio grosso due minuti dopo la replica del Boiano Di Camillo accomoda per Schipani ma Russo blocca in tuffo 60 secondi dopo la palla giusta parte dai piedi di Pignataro per Di Camillo il quale di potenza fulmina Russo per l'1 a 0 Matesino al trentaduesimo Russo esce su un pallone vagante in aria Maurillo prova la vola immorbida ma il portiere ospite recupera la posizione e blocca nel finale di primo tempo si rivede il sesto Campano con una punizione di Conte che però finisce fuori il bersaglio nella ripresa il Boiano prova ad incrementare il bottino ma Scimò al quinto su angolo di Maurillo stacca benissimo ma Russo è strepitoso nel salvare la sua porta all'undicesimo Maurillo ci prova in diagonale ma Russo ci mette un altro rammendo al tredicesimo altra azione sull'asse Maurillo Scimò ma l'incornata dell'undici bianco-russo non trova la porta al ventitresimo si vede il sesto Campano con Manara che prova la zampata vincente da due passi ma la sfera si perde di poco al lato al ventisettesimo Maurillo si trova ancora sulla mattonella preferita ma non sfrutta a dovere la sponda di Di Camillo nel ribaltamento di fronte il sesto Campano trova il pareggio Manara rimette in mezzo un pallone morbido che il più piccolo del gruppo Iannetta insacca addirittura di testa per l'1-1 che lascia la mano in bocca al Boiano ed evita la sconfitta al sesto Campano insomma scontenti tutti Netto il successo del Termoli a Spinete Termoli avvalanga sul malcapitato Spinete che al termine di una giornata negativa sotto diversi punti di vista subisce il pesante passivo di 6-1 arbitra il signor De Castro della sezione di campo basso per la cronaca gli Adriatici intonano subito la gran voce a un solo giro di lancette e Falcone fa tremare l'incrocio dei pali della porta difesa da Borreca che successivamente fa suo il pallone al quarto d'ora al via lo scioggiallo rosso sugli sviluppi di un calcio di punizione diagonale clinico di Pifano e Termoli in vantaggio trascorrono 120 secondi e Cirilliano su un'indecisione del giovane Borreca e la classe 2001 va a siglare il gol del raddoppio minuto numero 27 Mallardo penetra in area di rigore guadagna il fondo assiste Falcone che a pochi passi realizza il 3-0 tutto molto facile per la squadra di Mister Longo 41esimo c'è un contatto in area del Termoli tra pace e carbone e per il signor De Castro nulla da eccepire passano due minuti e Buonanno fraseggia verticalmente con l'esterno sinistro per Toto che con un contromovimento ruba il tempo a difensore con un palonetto scavalca Melfi per l'1-3 parziale con il quale passa in archivio il primo tempo ecco i primi secondi 45 minuti grazie alla regia di Giancarlo Bustelli lo spinete viene fuori con orgoglio il neo entrato tedeschi incrocia sul palo lontano senza un buon esito stessa sorte anche per Cornacchione che ci prova poco più tardi i locali continuano però a concedere per spicaci ripartenze al Termoli matura il poker grazie ad un'azione abbastanza simile al terzo gol Mallardo apparecchia per De Vizia che batte Borreca per l'1-4 passano soltanto 6 minuti e per l'ex Isernia e Macchia restituisce il favore a Mallardo e pocherissimo servito occasione dall'altra parte per lo spinete con il pallonetto senza successo di Sandro Buonanno dopo che il pallone aveva scavalcato il portiere all'87 c'è gloria anche per i nuovi entrati innescati da De Vizia con Ottavio che mette De Rosa in condizione di segnare il definitivo 6-1 con il quale il Termoli batte lo spinete e si proietta già alla gara di ritorno degli ottavi di Coppa contro la LIFE Adesso il campionato di promozione Cliternina Comprensorio Varano 1-3 Molise Matese 1-2 Baranello Pietramonte Corvino 0-3 Casanovo Monte Rotaro Ururi 1-3 Castelmauro Ferrazano 4-2 Rocca Sicura Roseto 2-0 Santeliana Chieuti 1-1 Termoli Carovilli 0-0 Punteggio pieno per il Matese a quota 21 14 Castelmauro 13 Roseto e Termoli Comprensorio Varano 12 con Lururi Rocca Sicura 11 Molise 9 Pietramonte Corvino 8 con la Cliternina e la Santeliana 6 punti per il Ferrazano 5 Carovilli Baranello e Chieuti ultimo a quota 4 Casanovo Monte Rotaro E crisi per il Baranello che ha ceduto anche al Pietramonte Corvino in casa Continua il momento no del Baranello che cede i tre punti anche al Pietramonte Corvino nel secondo impegno casalingo consecutivo I pugliesi hanno fatto valere la loro esperienza e sono riusciti a compiere un altro passo verso l'obiettivo stagionale che è quello della salvezza Dirige il match Monaco di Sernia Con le immagini di Marco Iannetta passiamo alla cronaca Il Pietra si presenta subito dalle parti di Manocchio Corre il quarto quando Ferro serve Erecchia che da buona posizione conclude a lato Poco prima della mezz'ora gli ospiti passano Su cross dalla destra di Corsano Longo prende l'ascensore e di testa fa secco Manocchio Baranello Pietramonte Corvino 0 a 1 E' ancora la formazione di Papa a farsi vedere ma la punizione di Irecchia è alta sulla traversa Le due squadre vanno a riposo con il Pietramonte Corvino avanti 1 a 0 Nella ripresa parte forte l'undici ospite Sulla conclusione di Irecchia Manocchio ci mette Guantoni e devia Il Baranello reagisce e all'ottavo ha la grande chance per pareggiare Di Chiro va via in percussione entrato in aria viene atterrato da Longo Per Monaco è rigore Sul dischetto va lo stesso capitano del Baranello che però si fa ipnotizzare da Colanero che respinge la sua conclusione Al quindicesimo Recchia dopo un passaggio di lungo va in percussione e costringe la deviazione in corner Manocchio I padroni di casa provano a rialzare la testa Al diciassettesimo è Pascarella a concludere verso la porta di Colanero palla murata dalla difesa Dopo tre giri di lancette Mammolino servito da Corsano tira su Manocchio in uscita e sciupa clamorosamente l'occasione È il preluio al gol che arriva poco più tardi Mammolino va via in velocità mette palla indietro per la corrente Recchia che prende la mira e batte Manocchio Baranello 0 Pietramonte Corvino 2 I locali provano a riorganizzarsi ma incassano anche la terza rete realizzata da Longo che recupera palla e batte Manocchio dalla distanza Le emozioni finiscono qui Nel finale di partita gli ospiti devono rinunciare a Corsano che rimedia un brutto colpo alla spalla e deve ricorrere alle cule dei sanitari Per lui si teme una lussazione Al novantesimo fa festa il Pietramonte Corvino il Baranello deve cercare di ripartire dalla trasferta di domenica a Carovilli Buona prestazione e successo per il Castelmauro contro il Ferrazzano Castelmauro 4, Ferrazzano 2 Bilancio positivo per il Castelmauro alla chiusura della settima giornata di campionato Già al terzo minuto di gioco la squadra di casa crea un'occasione gol Dorsi apre in diagonale per Caputo lancio corto per Trolio che non inquadra lo specchio della porta Ci riprova Trolio prima direttamente e poi allungando per Paolucci ma il tutto si conclude con un nulla di fatto Ed ancora Caruso con Paolucci Masabelli difende la sua porta con i pugni Al diciannovesimo il Ferrazzano riparte in contropiede Cesaro vede Cannavina sotto la porta che senza forza ma con grande precisione insacca in rete Al ventisettesimo il Castelmauro risponde calcio di punizione battuto da Trolio a pescare la testa di Dattoli 1 a 1 Sul finire del primo tempo di gioco il match che inizialmente sembrava vedere un Castelmauro dominante si sposta su ritmi paritari come paritario è il punteggio fin qui riportato nonostante l'ultimo tentativo del Ferrazzano è Cesaro a provarci con i pugni sedile Si rientra dall'intervallo all'ottavo il signor Tano della sezione di Termoli assegna il rigore per il Castelmauro ovviamente contestato dagli avversari è Di Nonno che atterra Caputo in area di rigore ed è lo stesso Caputo che va sul dischetto per segnare il gol del 2 a 1 Da questo momento in poi il Castelmauro prende vigore Caputo, suo assist di Trolio segna la sua doppietta personale fissando il punteggio sul 3 a 1 e annullando il Ferrazzano che sul campo non fa più registrare azioni di rilievo Al ventunesimo Caputo è a tu per tu con Sabelli ma si intimorisce e non va in gol Al ventottesimo Rosso diretto per Maio per contestazioni è blackout per il Ferrazzano Al trentunesimo Dascenso ha colpito di prima intenzione e col destro gonfia la rete Sul finire del match, sul cross di Barletta Rosa stoppa la palla col destro ed in sacca con il sinistro Castelmauro 4, Ferrazzano 2 Al triplice fischio il Castelmauro porta a casa la vittoria ed è secondo in classifica Il Ferrazzano dovrà essere meno altalenante e non sbagliare con la cliternina nella prossima giornata Pallavolo maschile di Serie C all'Agnone il derby contro la Laborvetro Volle Campo Basso la squadra alto molisana ha vinto 3 a 0 25 a 13, 25 a 19, 25 a 21 i parziali L'Agnone è salito a coda 5 in classifica è rimasta a 3 la Laborvetro Volle Campo Basso Il campionato femminile di Serie D la nuova pallavolo ha ospitato e battuto 3 a 0 il Francavilla i numeri dei set 25 a 9, 25 a 16, 25 a 22 Le ragazze di Raffaele Di Cesare hanno 4 punti in classifica dopo 2 giornate Adesso i risultati della prima categoria Quarta giornata nel girone A della prima categoria la Fidelis Fornelli 5 a 1 Mignano Volturino 2 a 4 Aurora Capriatese e Rocca Ravindola 1 a 0 Bois Vairano Castel Di Sangro 6 a 3 rinviata Domenico Desistos Bozzilli Macchia Real Prata 5 a 0 Sospesa sia masseria alla corte Rufre Presenzano che Sporting La Pietra Forlum 10 punti Bois Vairano 9 Domenico Desistos alla Fidelis e Capriatese insieme anche a Castel Di Sangro seguono a 7 Volturino Forlum di seguito tutte le altre Girone B Quarta giornata Campobasso Calcio Maronea 3 a 1 Chiauci Carpinone 0 a 3 Donchessagnone Mirabello 2 a 1 Mundimitar Real Cerce Piccola 3 a 1 Sospesa Pesche e Quartiere Campobasso Nord Ripalimosani Real Gildone 4 a 1 Sant'Angelo Limosano Trivento 0 a 1 Vinchiaturo San Pietro in Valle 2 a 0 12 punti Trivento 9 Ripalimosani insieme al Campobasso Calcio il Sant'Angelo Limosano e la Donchessagnone 8 Vinchiaturo 6 Carpinone di seguito tutte le altre per finire tiriamo con il Girone C Angioina Colletorto Turris 0 a 2 Biccari Poli Spetacciato 2 a 0 Casali Downi Porto Cannone 2 a 2 Fiamma Larino Macchiaol Fortore 1 a 2 Gruppo GSM Altilia Samnium 0 a 4 Polisportiva Fortore Matrice 2 a 0 Polisportiva Calena Guardial Fiera 3 a 0 Tre Colli Rotello Campobarino 5 a 0 12 punti Polisportiva Fortore e Biccare 9 per il Rotello 7 al Tilia Samnium Polisportiva Calena Porto Cannone e Turris di seguito le altre è lunedì quindi stasera appuntamento con Molise a calci alle 21 insieme a Gianni Bruno Cecilia Di Lauro naturalmente avremo ospiti opinioni commenti e la nostra attesissima Moviola alle 21 Molise a calci sempre e solo su Tele Molise è tutto buon pomeriggio Grazie a tutti i nostri spettatori Sono parte di Albuo